Allora, a seguire, passiamo dalla regione, passiamo in comune, Andrea Boccaccio, portavoce in comune a Torsi. Grazie Carlo, buongiorno a tutti, sono Andrea Boccaccio, portavoce in comune, ma io credo che siano state dette tante cose giuste, tante cose tutte giuste da Alice e da Marco. Diciamo che la situazione in comune è peggio di quella che si vede dall'esterno, qui nello specifico avete sentito, immaginiamo che questo sia il centro di un cerchio, se tiriamo un raggio di 100-150 metri ogni salto che facciamo è un casino, è così purtroppo, lì non si sa cosa ci hanno buttato, se hanno bonificato eccetera. Di là hanno tolto i parcheggi e adesso il comune non sa come muoversi, per questo è molto silenzioso l'argomento di Via Gherzi, perché dopo aver consegnato, comunque detto alla società che i parcheggi sono di loro proprietà cosa fa adesso? Se glieli toglie paga una penale, se non glieli toglie ha dei casini con i cittadini e quindi non riescono a uscirne, lo sapete bene voi col comitato. Per fortuna c'è un gruppo di cittadini molto agguerrito, speriamo per il sostegno che noi possiamo dargli di aiutarli e di risolverli questa cosa. Poi c'è il parcheggio, immagino che qualcuno di voi abbia visto su Report la figura imbarazzante che ha fatto il nostro sindaco, non credo, non voglio cavalcarla, è lecito che un sindaco non conosca tutto della sua città, sicuramente un progetto è un po' da 10 milioni di euro forse sarebbe opportuno che lo conoscesse. Però al di là di questo, se qualcuno di noi, qualcuno tra voi, se ha il proprio lavandino che già non sgorga bene, perché da Via San Felice da tutto arriva acqua e si allagano i negozi, il bisogno, metterebbe una scatola di scarpe dentro al lavandino, indipendentemente dal fatto che sia norma di legge oppure no, perché purtroppo devo dire, e credo che di esempi in Italia ce ne siano parecchi, che molto spesso anche le realizzazioni a norma di legge poi a posteriori si sono rivelate dei grossi problemi. Io sono arrivato in moto passando sul ponte, erano due mesi che non passavo da lì e adesso che è arrivato a piano strada, diciamo, la struttura, si vede chiaramente che è diventata una corsia di accelerazione per l'acqua, perché ha stretto, magari sarà nel rispetto i famosi dieci metri, tutto quello che sono venuti i tecnici di regione, di comune, hanno detto che tutto va bene, ma sicuramente lì stringendo l'acqua accelera e quindi magari può darsi che lì non succeda niente, anche se stranamente una delle prime opere, perché ancora prima di finire si è già allagata, ma sicuramente l'acqua accelera e va a colpire da qualche parte più a valle. Ecco, noi cosa facciamo? Innanzitutto purtroppo vi devo dire una cosa ovvia, ma sulla quale vi invito a riflettere, la Val Bisagna indubbiamente è una valle molto colpita, purtroppo per voi, vi devo dire, purtroppo per tutti noi non è l'unica zona della città che sta vivendo dei problemi, ci sono problemi ovunque sostanzialmente, a Ponente, in Val Polcevera, la cosa che devo dire, io non ho mai fatto politica prima di entrare in comune tre anni e mezzo fa, la cosa che mi ha colpito molto, prima sentivo Marco giustamente parlare di buonsenso, io quello che trovo spessissimo nelle scelte che vengono fatte in comune dalla maggioranza, dalla giunta eccetera, è proprio la mancanza di buonsenso, la superficialità con le quali, perché certamente, come dire, se parliamo tra di noi al bar il politico viene sempre individuato come una persona disonesta, che prende delle scelte in mala fede per interessi personali, sicuramente a tanti livelli questo c'è, può darsi anche che succeda in comune, però devo dire che molto spesso invece il problema delle scelte che viene fatto è che manca completamente il buonsenso, manca il dialogo con i cittadini, anche se tutti si riempono la bocca di partecipazione, di coinvolgimento dei cittadini, manca l'analisi, diciamo, ci si ferma, un piano superficiale, manca quindi l'analisi di quelli che possono essere le conseguenze. Ora, cosa possiamo fare? Direi tutti assieme combattere, diciamo, ora, sinceramente usare termini e parole guerriere la mattina dopo un disastro e un massacro mi rendo conto che non sia magari politicamente molto corretto, però da un punto di vista totalmente legale e assolutamente non violento, io credo che noi dobbiamo assolutamente combattere qui sul territorio, il municipio, dando sostegno ai ragazzi del gruppo territoriale qui e ai consiglieri municipali della bassa Valbisagno, se possibile dando sostegno anche noi in comune, perché vi assicuro che se venite qualche volta o se vi capita di guardare, se non avete proprio di niente di meglio da fare nella vita, ma guardate su Telenord la diretta del Consiglio Comunale, vedete delle cose, sentite le cose che sono sorprendenti, che non vi aspettate, che vanno oltre i luoghi comuni della politica e sono tutte molto brutte da sentire. Poi, sicuramente, fortunatamente, direi che è un grande successo, abbiamo adesso anche dei consiglieri regioni, abbiamo quindi chiuso sostanzialmente la catena, adesso dal municipio, quelli dove siamo presenti e quelli dove non siamo presenti ci sono i gruppi territoriali, fino al Parlamento Europeo il Movimento 5 Stelle ha chiuso una catena, quindi riusciamo fortunatamente a passarci spesso e a sostenerci a vicenda, le pratiche, le richieste, le interrogazioni, eccetera, e ogni tanto, devo dire, nonostante cerchino di metterci i bastoni tra le ruote in tutti i modi, qualche piccolo risultato lo conseguiamo. È chiaro, lo dico sempre, quindi magari se qualcuno di voi era da qualche altra parte l'ha già sentito e me ne scuso, io posso fare la migliore opposizione del mondo e sinceramente non sono modesto, credo che noi in Comune, insieme a tutti gli altri ragazzi, Paolo, Emanuela, Mauro e Stefano, stiamo facendo molto bene, che i ragazzi e i colleghi in municipio stanno facendo molto bene e adesso hanno cominciato a fare bene anche Alice, Marco e tutti gli altri che non sono genovesi consiglieri regionali, però la migliore opposizione del mondo incide purtroppo molto poco, è forte nel denunciare, è forte naturalmente nel far emergere delle situazioni, dei conflitti, dei problemi che prima rimanevano nascosti, però bisogna che ci prendiamo questo Comune, abbiamo la possibilità per farlo, ce lo dicono gli altri, ce lo dicono gli altri partiti che hanno paura che il Movimento 5 Stelle qui a Genova riesca a vincere, per come dire, se posso dare un compito a casa a voi che siete qui e naturalmente a noi che continuiamo a lavorare, quello di pensare ogni giorno, al di là degli slogan, al di là giustamente delle cose che poi in campagna elettorale si diranno però di come informarsi e come fare in modo, parlando con i propri amici, parlando con la propria rete familiare, di convincerli che davvero una chance, un tentativo che il Movimento 5 Stelle governi in questa città va assolutamente fatto, io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, è stato bello vedervi, non so quale sia la scaletta ma passo il microfono a Carlo, ciao a tutti! Bene, grazie! 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 Grazie!